Buonasera dal Mercadante, 28 giugno 2018, ultimi giorni per quanto riguarda l'Allivi Fascia B 2002 gara amichevole quest'oggi qui al Mercadante, tra e granata del Virtus Mercadante 2002 l'Allivi Fascia B ancora per qualche giorno e i bianchi dell'Ascaris, gli amici dell'Ascaris portiamo con affetto gli amici dell'Ascaris su questa amichevole internazionale pubblico delle grandi occasioni di noi poi vi faremo vedere, pur ma da tutta Italia abbiamo avuto problemi di arrivare anche noi due ore prima questa bella gara amichevole con gli amici dell'Ascaris, con i grandi dell'Ascaris col completo bianco pantaloncino nero, ricordiamo una gara amichevole quindi cerchiamo di divertirci, di fare esperienza di giocare bene con gli amici dell'Ascaris vediamo ancora un'occhiata ai nostri ospiti salutiamo la panchina dell'Ascaris, i tifosi dell'Ascaris, i tifosi neutri, i tifosi del Mercadante Virtus 2002 e come sempre, buon divertimento che vinca lo sport vedremo poi più avanti quanto dureranno i tempi non facciamoci male, divertiamoci insieme al Mercadante Virtus salziamo ancora dalla destra per l'Ascaris, la prima azione di un certo valore, libera il nostro attaccante che retorcede in difensiva ricordo amichevole di fine stagione per gli amici dell'Ascaris, anche l'internazionale in tutti gli ordini, in tutti i posti, i più quotati l'Ascaris sono qui, insieme a noi già si rischia, già si rischia gambe fredde idea fredde, gambe fredde bella, bravo Antonio in calcio d'angolo, primo pericolo anzi, già secondo o terzo pericolo dell'Ascaris calcio d'angolo dalla sinistra libera il nostro attaccante si soffre ancora, ancora in avanti l'Ascaris in questi terzo minuto, si soffre, ha battuto a corte la punizione non riusciamo a uscire dall'aria vediamo l'aria per fortuna controllo imperfetto nel nostro attaccante numero 14 corre in attacco l'Ascaris, si ne vede la differenza di categoria, l'Ascaris è sicuramente una squadra di livello cerchiamo di fare esperienza con il grande L'Ascaris vincitore del torneo provinciale quindi un po' se riusciamo a uscire, a organizzare qualche azione siamo stappati nell'aria il cantonio in porta oggi siamo riusciti al suo passare la prima volta il centrocampo dopo ben 5 minuti ci sono anche giocatori nuovi che stanno provando anche a noi qui siamo al quinto 0-0 con i curati dell'Ascaris il mercadante attacca da destra o da sinistra dei vostri tre schermi, computer, tablet su youtube siamo mentre i bianchi dell'Ascaris da sinistra verso destra sono stati pericolosi in diverse occasioni noi stiamo uscendo la palla sulla destra attenzione numero 7 sta per entrare in aria è entrato, passato indietro finta tiro la palla fuori manca le intese per molti ragazzi nuovi che sono venuti qui a provare al mercadante per questa prossima stagione che sta per nascere nascendo una nuova stagione stiamo provando di tutto nuovi schermi, nuove persone nuove idee di punizione siamo adesso al minuto 7 vediamo un po' se prova a tirare o passa vediamo un po' tiro molti amici ci hanno lasciato in questi ultimi giorni la palla esce perché sei infortunato un ragazzo dell'Ascaris quindi vogliamo salutare tutti i nostri amici che ci hanno lasciato vi ricorderemo magari più avanti stagione nuova possiamo definirlo da oggi con tanti ragazzi nuovi siamo in via mercadante 133 se volete provare dal 2002 al 2013 venite in via mercadante un provino per tutti scuola calcio settore giovanile potete tutti fare un provino dal 2002 al 2013 via mercadante ed ecco qua il gol sull'errore della difesa ottavo minuto 1 a 0 quindi 1 a 0 gol dell'Ascaris all'ottavo minuto palla persa sulla destra tiro a scavalcare un mezzo pallonetto ecco il nostro Momo un cespita sul pallone non riprende però ancora buona ancora buona apertura fa la buona cross guardiamo che siano fuori gioco molti ragazzi nuovi in questo provino definiamo una partita di allenamento provino per molti ragazzi abbiamo il numero 15 ragazzi inquadrato numero 3 ci sono tanti ragazzi anche il numero 13 sulla destra quindi ecco prosegue sulla sinistra cross Antonio c'è libero Antonio un po' corto ecco il nostro Momo 14 ragazzo nuovo ecco il numero 20 anche lui un ragazzo nuovo in provino quindi divertiamoci insieme in questa amichevole con i super potati della Lascaris bell'apertura bell'apertura sul numero 15 vediamo se riesce a recuperare la palla la recupera si libera rientra Yaya di anticipato Yaya di anticipato cross di il nostro Giuseppe anche questo è un ragazzo nuovo la palla esce siamo adesso al minuto 11 sempre 1-0 per il Lascaris non state meritando il mercadante che ha tanti ragazzi nuovi quindi si riparte con un laterale sulla sinistra per il Lascaris dodicesimo forse faremo tre tempi forse tre tempi da venti vediamo un attimino come vediamo che è amichevole senza per affinare gli schemi per preparare la nuova stagione 2019 2018-19 quindi il risultato avrà il suo valore ma sicuramente con con tutti questi nuovi ragazzi non non è la prima cosa parte il mercadante Granata apertura sulla destra Andrea chiede la palla ma il difensore bravissimo anticipato Andrea riparte il Lascaris dalla sinistra entra in aria quasi eccolo bravo che c'è Yaya anche lì che butta la palla è ancora buona ancora buona per coprire il Lascaris parte un bel cross gol 2-0 14esimo quindi 2-0 prosegue sulla destra il Lascaris si libera bene apertura sul numero 2 bella va a chiudere Yaya e porta la palla in fallo di fondo rimessa del nostro Antonio la palla è buona ecco il nostro Cristian numero 10 una palla sulla sinistra è bussata dalla Scaris la palla la palla va a finire direttamente nelle mani del portiere qualche nuvola una temperatura ideale per giocare questo giovedì sera un bel passaggio all'interno dell'area della Scaris sorpassano la nostra area il lancio forse un po' lungo recupera il numero 11 bravo la palla esce ancora il Lascaris sulla sinistra 28 giugno 2018 amichevole mercadante Lascaris 2002 lì mi faccio a B ancora per qualche giorno uh bella entrata tiro la palla esce di poco il nostro portiere palla super al centro campo Momo una potenza nuovo acquisto del mercadante recupera la palla Andrea centrocampo capitano quest'oggi partita sulla sinistra ancora Andrea la palla un po' metà strada riparte Lascaris la palla va sul numero 10 parte un bel cross sul secondo palo c'è l'attaccante però parte un altro cross libera il 5 tiro gol liberato male 3 a 0 quindi siamo adesso minuto 18 ecco Obu Yaya per la palla centrocampo zona pericolosa apertura tiro la palla esce palla esce ecco il folto pubblico del mercadante da tutte le parti i tifosi di quest'oggi da tutta Italia questa è solo una parte è il folto pubblico del Lascaris mercadante tifosi 3 a 0 bel giro palla della Lascaris palla super al centrocampo Gabriele siamo a fine stagione fine inizio stagione quindi prendiamo queste gare naturalmente con l'elastico in parte Lascaris sulla sinistra il ventesimo Andrea palla su Gideon numero 13 oggi i numeri sono casuali palla fuori messa laterale palla in laterale messa laterale dal centrocampo quasi Momo Cristian sulla destra si va a imbottigliare rimpallo portiere della Scaris recupera la palla portiere inoperoso fino a questo istante forse solo un tiro di Andrea non ripreso con l'azione ma era un tiro abbastanza innocuo la palla è buona la palla è buona bello il cross la rigore è netto va al numero 10 siamo al 22esimo per il rigore è netto fallo di nostro Giuseppe gol 4-0 bravo un bel tiro potente a sinistra del portiere Antonio Andrea sulla destra rimpalla la palla vediamo a chi va al mercadante dice il direttore di gara 4-0 quindi primo tempo 23esimo ricordiamo che sono molti ragazzi nuovi molti ragazzi nuovi anche in panchina quindi dobbiamo affinare gli schemi in questo momento dobbiamo solo divertirci banderina a pariata piena per il nostro Giuseppe libera la difesa su questo mezzo calcio d'angolo colombiani Andrea sulla destra vediamo un pochettino cosa organizziamo sulla fascia destra se è un passaggio in centro o un passaggio agli aria che è marcato ancora in attacco il mercadante col nostro Cristian ancora Cristian messa nel nostro Giuseppe in centro aria Momo non tocca tocca al difensore che dalla portiera riparte il contropiede dell'Ascaris sulla sinistra 4-0 attenzione un altro tentativo di fallo fortuna l'attaccante è rimasto in piedi se no era un altro rigore anche questo recupera Andrea perde la palla la recupera la ripassa la recupera Cristian parte Momo dalla destra parte Momo pubblico si esalta insieme a noi la palla è in laterale iniziato da 20 secondi il secondo tempo quindi il primo tempo dopo 25 minuti in questa sgambata allenamento partitella con amichevole con gli amici della Scaris primo tempo 4-0 meritato ho giocato meglio la Scaris il mercadante ha molti ragazzi nuovi quindi l'affinamento si dovrà fare da adesso partirà da adesso quindi è giusto avere delle difficoltà con molti giocatori che sono nuovi l'attura sulla sinistra la palla esce il secondo tempo quindi molti cambi per il mercadante è entrato il secondo portiere che non è più Luca quindi salutiamo già Luca che ci ha lasciato è entrato Dennis Galebbe sono tanti molti ragazzi nuovi che non sono anche più che non li conosco è entrato anche Samuele è entrato Gabriele è entrato Wansi l'apertura su un nuovo ecco vedete l'emozione porta anche errori più facili quindi siamo partiti per vedere anche questo secondo tempo in questa amichevole con i bianchi dell'Ascaris in questo 28 di giugno 2018 palla esce siamo in via mercadante 133 a Torino se volete se volete rivedere questa gara altre gare quelle del campionato provinciale regionale se volete rivedere immagini foto sogni collegatevi i nostri social diretti su mercadante 2002 del facebook oppure instagram trorete di tutto foto immagini sogni bravo il nostro difensore Leo Wansi che libera un gol già fatto palla ancora al 18 tiro la palla esce palla buona bravo Wansi la palla è buona ancora Dennis Dennis rientra passala andrà a recuperare la palla la sua azienda sinistra bravo 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 tutto buono Yaya centrocampo agonismo giusto Andrea su Yaya anzi su Sofiane che è andata in quel secondo tempo recupera Yaya numero 12 il portiere nostro esce quindi salutiamo il nostro amico il nostro amico Luca il portiere che ci ha lasciato salutiamo anche Leonardo il difensore salutiamo Willy salutiamo Leonardo il nostro fluidificante di destra salutiamo mi dimenticare il nostro amico salutiamo anche il nostro amico tutti gli amici del mercatante che lo diventeranno nel prossimo anno se dovessimo mai incontrarli rigore 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 quindi 4 a 0 rigore fallo su Andrea sulla sinistra siamo l'ottavo vediamo chi va a battere questo rigore va il nostro Dennis fresco parte Dennis bravo 4 a 1 bel rigore forte sulla destra del portiere bravo col quindi 4 a 1 al nono secondo tempo amichevole di lusso con gli amici della Scaris quando abbiamo visto una richiesta della Scaris non abbiamo affatto esitato abbiamo sudocentato questa gara con i quotati la Scaris campioni provinciale per la categoria 2002 per la categoria 2002 portiere copre palla in palla di fondo quindi dicevo non potevamo rifiutare una bella gara amichevole con gli amici della Scaris che hanno vinto il campionato provinciale col 2002 qua a Torino palla è buona passaggio al centro non c'era nessuno sul primo palo riparte Mercadante il gol l'ha caricato sia i tifosi che la squadra ecco che numero 2 l'arbitro non vede si prosegue apertura Samuele in difesa vedete che si provano schemi si provano movimenti si provano azioni con ogni tanto diamo una squarciata al folto pubblico e questa è solo una parte del pubblico che è le nostre spalle poi ci sono a sinistra e a destra apertura recupera la palla il nostro Galeb numero 19 Dennis ancora Galeb Yaya ancora Galeb un po' di confusione prova Galeb questa punizione all'undicesimo del secondo tempo un passaggio centrale Yaya Yaya porco boia tutto bello pallo forse non fischiato tiro di Dennis bravo portiere nooo ancora buona in calcio d'angolo ecco il pubblico che applaude gol mancato per un pelo non abbiamo avuto la cattività giusta all'inizio rete pazzesco la scala si è leggermente mollata calcio d'angolo battuto corto Yaya Andrea parte il cross bello nooo Gabriele Gabriele incorna bene ma niente bravo Gabriele apertura centrale per Yaya attenzione 1-2 con apertura sulla sinistra pubblico si esalta buone stralci di azione in questo secondo tempo siamo al tredicesimo 4-0 però anzi 4-1 gol di nostro Dennis su rigore rigore netto su fallo su Andrea che era parito bene Galeb che era parito bene sulla sinistra difensore l'ha tranciato dai ragazzi bravo c'è ancora fallo bell'1-2 attenzione bravo Gabriele in difesa centrocampo un po' vuoto Samuele secondo me bravo buona leggero infortunio però un amico della Scaris che è leggermente uscito ancora Sofi sulla sinistra vediamo con il numero 14 riparte la Scaris quindi leggera botta per il giocatore dell'attaccante della Scaris che adesso è in panchina è uscito con le sue gambe forse solo una botta è caduto male il gioco si è fermato per qualche minuto siamo al 17esimo non penso che l'arbitro farà recuperare questa gara amichevole portiere non esce palla in laterale e che buona Sofi vai 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 e parte il Mercadante ancora la palla in difesa anche la Scaris ha fatto i suoi cambi bravo il Mercadante passa bene il centrocampo Gabriele buco tiro bravo portiere bravo a branca impresa ricordiamo che è la prima gara del portiere quindi ci può essere un po' di difficoltà un po' di timore prima gara con un'altra squadra quindi Galeba centrocampo danza col pallone apertura su il nostro attaccante Andrea sulla sinistra entra in aria difensore chiude iaia si fa recuperare palla recuperata dalla Scaris lancio bel lancio numero 7 bravo Andrea bravo il portiere che copre bravo il portiere recuperare la Scaris bravo ancora il 13 Gabriele chiude attenzione Leo Wansi bravo anche lui palla numero 16 Dennis dalla 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 eccolo finessa libera iaia sembra che ci sia ripresa leggermente la Scaris in questo secondo tempo ha subito il gol forse qualche cambio hanno leggermente indebolito la squadra ma è sempre sempre un grande la Scaris fuori gioco sopra sopra sali 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 pattura sulla destra il difensore libera le prime ombre della sera siamo in filo ancora iaia si fa sorpassare dal pallone dal difensore fuori gioco anche questo bravo bravo portiere bravo Dennis Dennis apertura indietro su Galeb dribbling tiro su Fienna 4 a 1 sempre il nostro portiere che ha preso di Antonio in questo secondo tempo la palla esce Sofi Sofi centrocampo apertura sulla destra per Galeb Galeb passa passa palla adesso alla Scaris siamo adesso venuto 25 ovviamente ancora qualche secondo poi si andrà al tempo forse facciamo tre tempi da 25 ragazzi preparatevi non andate via perché sicuramente anche nel terzo e ultimo tempo ci sarà da divertirci ricordo una gara amichevole questo 28 di giugno 2018 vai Sofi tra il Granata del Virtus Brigante 2002 e i amici della Scaris bianco amichevole portatelo su Washi alle fascia B 2002 alzati siete troppi in tre alzati Washi consigli anche le nostre spalle parte il contropiede tre contro due bravo bravo passiamo secondo min tempo da poco ho iniziato il terzo tempo di questa gara amichevole anche gli orari dei tempi sono particolari in questa gara amichevole quindi entrano tutti escono tutti giocano tutti anche più volte rimessa della Scaris che vince 4 a 1 questo terzo tempo sono rientrati i giocatori del primo tempo quindi attenzione terzo tempo quindi mercadante che gioca in casa attacca adesso da sinistra verso destra parte il cross gol bello 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 bravo gol minuto 1 rivoluzionata di nuovo la formazione del mercadante ricordiamo è un amichevole giocano tutti molti ragazzi nuovi quindi l'emozione del primo giorno l'emozione del grande incontro con i grandi Lascaris sicuramente influenza questa è la partita questo è il risultato comunque fino adesso una buona prestazione del mercadante diciamo un buon secondo tempo un primo tempo con tanta emozione e il terzo tempo è appena iniziato bello l'azione del giocatore laterale destro bello la palla esce di poco quindi se volete fare anche voi un provino come ho detto prima dal 2002 al 2013 dal settore giornino della scuola calcio un provino per tutti se vi piace bene altrimenti amici come prima venite in via mercadante qua zona nord di Torino per un provino se vi piace una casacca granata o bianca per le partite ufficiali altrimenti amici come prima e ci vediamo il prossimo anno via mercadante 133 zona nord di Torino venite a trovarci Dennis sulla sinistra prova cristian 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 la palla ancora cristian cristian entra in aria entra si accentra la difesa messa laterale difensore in laterale di nuovo palla cristian parte un bel cross la difesa libera la palla ancora Gabriele in difesa apertura sul numero 13 bravo la palla al numero 5 della scaris apertura sul numero 8 tacco liberare bravo l'apertura di momo sul nostro Dennis fallo di confusione tutto tutto buono gioco maschio per fortuna solo una botta per l'attaccante della scaris che è in panchina ma forse solo una forte botta ma niente di particolare per fortuna giusto agonismo qua in via mercadante a Torino con gli allievi fascia B2002 ancora per qualche giorno faccio l'angolo dalla destra parte il cross svetta qualcuno e Antonio in porta c'è bravo Antonio ai 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 non riesce poi a difendere 6 a 1 beccato palla adesso sulla sinistra 6 a 1 quindi palla al nostro Antonio controlliamo il tempo siamo adesso al settimo minuto del terzo tempo Momo la coppia nera sulla destra parte un bel cross bravo 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 il portiere colpisce con la testa il palo tutto a posto ci auguriamo eccovi tutto a posto parte la scaris sulla destra vediamo gara amichevole con gli amici della scaris una squadra che ha vinto il campionato provinciale qui a Torino quindi apertura sulla destra ancora l'attaccante bravo Gideon apertura sulla sinistra il nostro Giuseppe che si è spinto più avanti in questo terzo tempo potete vedere che si provano schemi quindi un dato importante ma in più potente gli schemi conoscere i nuovi ragazzi affinare gli schemi divertirci ecco Gabriele compro la palla il nostro Giuseppe della sinistra si allarga bravo il difensore copre la palla fallo di fondo nono minuto andiamo un po' se il calcio d'angolo no si calcio d'angolo calcio d'angolo va non riusciamo a vedere chi va il calcio d'angolo forse Giuseppe Barton Kras bravo grande Momo 6 a 2 bravo Momo giragli un po' che vediamo bravo ecco altri tifosi Mercadante Lascaris in festa guarda come sono tutti esaltati 6 a 2 c'è anche lo sponsor dell'Estate il risponso della parita di oggi è estate 6 a 2 quindi gol di Momo al decimo minuto si prosegue ha ravviato di nuovo ha ravvivato di nuovo i nostri tifosi questo gol uu uu meno male l'attaccante non recupera per tutta la destra riparte Lascaris a palla adesso il nostro difensore apertura sul numero 20 attenzione fate un tiro bravo bravo bel tiro potente centrale però palla esce il pubblico anche su quell'altra ala forse il numero 7 no è il numero 10 bravo le ombre della sera questo fallo di mano l'abitro lo trova rigore netto parte adesso il numero 5 gol 7 a 2 rigore netto 7 a 2 quindi si prosegue siamo adesso al tredicesimo stanno preparando i cambi per questo metà terzo tempo terzo tempo è messa del nostro Antonio bravo gideon di testa parte giuseppe sulla sinistra ancora gideon di spalla ancora dennis no momo momo la palla su dennis la palla fuori completamente parte della scaris ancora christian che ci crede apertura sulla sinistra apertura sulla destra adesso belle le aperture della scaris minuto 14 la palla esce breve break in questo terzo tempo che ha portato a quasi tutte le istituzioni sono rientrati parte dei ragazzi per la sua sinistra per denis e per soffiene che è rientrato pirouette tiro gol gol 7 a 3 bravo numero 16 7 a 3 quindi 7 a 3 in questa gara amichevole con gli amici dell'ascaris bianco gara amichevole siamo in via mercadante se volete vedere questa gara alle altre collegatevi su youtube tutti i collegamenti tutti i link anche delle gare del campionato provinciale regionale di questa stagione appena finita tutte le foto immagini allenamenti e i prossimi impegni facebook mercadante 2002 e instagram scusate queste intromissioni apertura su Giaia che è rientrato in questo terzo tempo ecco Gabriele l'apertura sull'altro Gabriele gol 7 a 4 bravo Samu ci ha creduto errore della difesa 7 a 4 porco boia e questo è ancora niente può arrivare anche 8 e può arrivare anche 5 7 a 4 quindi amichevole divertiamoci insieme in questi ultimi giorni di giugno con gli amici della Scaris che stanno meritando comunque la vittoria hanno un po' mollato la Scaris ma ci sta ma ci sta 7 a 4 due rigori contro comunque la Scaris sta meritando questa vittoria sta meritando perché comunque nel complesso sta giocando veramente bene ha fatto un primo tempo splendido uscito su Siena per quel fallo non c'è nessuno in panchina bravo il nostro Voleu anzi Andrea sulla sinistra 7 a 4 ripetiamo una gara amichevole a quanto a poco il risultato bravo e che ce l'hai il gol di Dennis di Samuele di Momo è un gol del ragazzo nuovo che sta provando da noi numero 16 ecco il numero 16 il mercatore di un gol liberiamo Stento ancora la palla bravo il numero 9 bravo bravo sta nascendo il quinto gol Samuele che è accaduto all'errore del difensore fallo del mercadante minuto 22 ma ci sarà da recuperare perché abbiamo non abbiamo interrotto il tempo tra il mini tempo nella pausa del mini tempo del terzo tempo apertura sulla sinistra l'11 da solo libera Yaya la palla in laterale bella serata qui al mercadante di Torino comunque sia ci siamo divertiti con gli amici della Scaris il risultato è largo da una parte dall'altra la palla esce il tifo ovviamente sono i genitori del nostro nuovo portiere messa del la Scaris stop di petto la palla indietro Andrea sulla sinistra numero 20 di passare indietro si accendono le luci di questo bella serata di sport parte un cross uh 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 bello sto gol bello bello 8 a 4 8 a 4 quindi siamo adesso al minuto circa al numero 25 ma c'era da recuperare come vi abbiamo detto fattura sulla sinistra per Samuele 8 a 4 ricordiamo che è una gara amichevole dove molti ragazzi del mercadante sono nuovi e quindi si provano nuovi ragazzi quindi se volete provare anche voi il 2002 è sempre aperto dal 2002 al 2013 l'apertura Obu sulla sinistra Obu passaggio indietro troppo indietro recupera la Scaris parte il contropiede sulla destra bravo il nostro difensore sul portiere del mercadante numero 12 rimesso laterale per il la Scaris mezzo fallo campanile colpo di testa la palla ancora la Scaris al limite dell'aria bravo il nostro difensore Gabriele Iaia partiamo partiamo vai spettura su Andrea niente fallo solo un laterale per il mercadante il bel lancio di Iaia Gideon parte un tiro doppietta del numero 16 8 a 5 quindi doppietta del numero 16 che è come un felino brinda con due gol a questa nuova avventura questa sua nuova avventura del mercadante bravo il numero 16 8 a 5 si 8 a 5 quindi una bella gara comunque sia attenzione non facciamoci male è uscito Sofien per la botta di prima Gideon resiste ancora la palla buona parte il numero 4 sulla sinistra bel passaggio in centro copre bene Gabriele ecco parte il cross della Scaris libera Gabriele bravo di testa ancora il numero 5 parte un tiro il nostro portiere e con questa parata del nostro nuovo portiere finisce la gara 8 a 5 si finisce con un applauso complimenti a tutti quanti dal mercadante